Hola io sono Marco Scrone, signore e signori bentornati finalmente in una nuova puntata regolare, questa qui è la terza puntata della serie sulla Stoneblock 2 Ragazzotti, ieri e l'altro ieri abbiamo tremato, il mio pc aveva smesso di funzionare, schermata blu, poi si resettava, tutti pensavano che fosse una problematica hardware Grazie al cielo si è risolto soltanto con un ripristino, quindi speriamo bene, io avevo già perso una puntata dalla Stoneblock che avevo già registrato, direi di bergerci subito in questo meraviglioso pack Prima però andiamo a vedere le modifiche che abbiamo fatto in live, in live faccio soltanto delle piccole ottimizzazioni, guardate che meraviglia Abbiamo fatto il vetro nero che si fa in questa maniera, dark glass, ah qui, ce ne ho un esemplare, dove sei finita, eccolo qua Serve il tinker glass ma poi ci dobbiamo mettere semplicemente un po' di nero, visto che in questo pack non c'è, non ci sono squid ovviamente, non c'è il mare Ho fatto una gallina dell'inchiostro, guardate che velocità, sono tutte 10-10 ovviamente, quella del legno e quella della sand Quella della sand l'ho spostata di qua in modo da variare un pochino, invece di fare più gravel, i nostri martelli setacceranno la sand, faranno la dust E qui ci 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 dusteranno la dust, no? Come potete vedere abbiamo un grosso problema che dobbiamo risolvere questa puntata Non ho fatto altre modifiche, non sono andato avanti con le mucche perché volevo aspettare voi Vi faccio presente un paio di cose, ho allargato di uno, queste lampade qua creano luce all'interno, quindi ti permettono di vedere Ma non bloccano, e questo è molto importante, non bloccano lo spawn dei mob, si chiamano lapis lamp se non sbaglio Poi abbiamo le lampade normali e ho dovuto sostituire questo, il vacuum hopper, oh mio dio è tutto pieno, oh mio dio è tutto pieno Forse l'ho lasciata accesa la farm, sì, l'ho lasciata assolutamente accesa la farm Ho dovuto sostituire, dicevo, il vacuum hopper con l'absorption hopper perché questo teletrasporta gli oggetti Mentre l'altro li attira e basta e quindi gli serve un buco Infine l'enderman non si teletrasporta più, Cristina da Vena Ok, sorry Perché ci stanno quelle lì che sono endertet, dove le ho trovate Le endertet sono delle cosine che come cito dalle informazioni bloccano il teletrasporto degli enderman Quindi gli enderman muoiono per l'acqua, ragazzi, piuttosto che cazzo teletrasportarsi dappertutto e quindi oh my god Tra l'altro sono fortissimi questi enderman, quindi vabbè Qui stiamo un pochino prendendo ste cose e qui, cioè, sono pieno come un uovo, ragazzi C'ho davvero, davvero un botto di roba Non capisco perché, ah, perché questo qui è pieno come un uovo anche lui Quindi da qualche parte dovrei avere, eccoli qua Andiamo a moltiplicare, qual è il problema? Wither Dust, ok E devo assolutamente iniziare a fare i void upgrade Proprio tanto, tanto, tanto Per forza di cosa Ok, qui dentro che c'è, c'è spazio? Ultima frontiera Adesso dovrebbe iniziare a metterli, perfetto Come potete vedere, dovrebbe sbrindellarsi Eccoli qua, guardate quanta Guardate che farm incredibile Molti di voi mi stanno dicendo di mettere la mob grinding utils Cioè, ovvero questo Mob grinding Il fantastico mob smasher Perché? Perché, ci avete ragione Ci si possono mettere questi upgrade Che alla fine ti danno un sacco di loot Però, regà, cioè, nel senso Guardate Davvero ne abbiamo bisogno? Ne sentiamo questo bisogno? Non lo so Se ne sentiamo questo bisogno Cioè, c'è un po' paura Però poi morirà, giuro Non rimarrà l'impallato per sempre Comunque Che abbiamo Abbiamo un sacco, un sacco, un sacco Di roba solidificata Guardate qui l'esperienza incredibile Ma abbiamo delle cose che abbiamo aperto in live Da questi cicci cicci, no? E alcune sono interessanti Vabbè Signori, questi Prossima live Ce li spacchiamo 5 Spectre Coil Da 128 RF Su Tic L'1 Igro Crystal Che sono interessantissimi E poi ve li faccio vedere Pensate che Nella puntata che mi si è cancellata Avrei fatto questi proprio E poi, signori Un Legendary Loot Crate E non vi dico che si può ottenere Con Legendary Loot Crate Perché sono Molto Molto sfigato Con le cose Con l'Alea Quindi 3 2 1 Oh 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 Posso Posso craftarle con L'Ossidiana e il Ferro Ma Ma sei stronzo Ma sei Sei un pezzo di fango Guardate ragazzi Che potevamo ottenere Potevamo ottenere Il Grow Fast livello 3 La Dark Matter Il Dislocator Potevamo Ottenere qualsiasi cosa Che cos'è l'Infinity Drill? Bellissimo E invece no Va 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 bene L'avevo detto che ero sfigatino L'avevo detto Allora Finisco la prima introduzione Andando qui A prendere le cosine Che Non abbiamo Non ci siamo presi Reward No Bam Still Touch Pedant Non ci interessa Un altro di questi Un altro di questi Il Demonic Vediamo se è vuoto È assolutamente vuoto Vediamo se lo posso mettere Ah no Qui già l'ho messo Il latte Questo che cos'è? E Stired Perfetto Però dobbiamo Dobbiamo dirglielo Questo qui è il mio metodo Di gestione delle mucche Non mi ricordo Se ve l'ho fatto vedere Ok Molto molto comodo Perché non devi usare Cioè Usi Spraghi un po' di ferro Però non devi usare i cavi Che i cavi si attaccano No 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 Tu vedi Fluid Tank In realtà Potremmo mettere uno Sopra l'altro Molto molto interessante Detto ciò Andiamo avanti Con lo spacchettamento epico Signori Bam 8 change cube Bam Un single Somig Che non ci interessa più Bam 3 hopper Incredibile Ragazzi 3 hopper Perché? Che sfiga c'ho? Che sfiga c'ho? Dai Dammi qualcosa di interessante No? Tipo Tutti dicono A me mi ha dato Il generatore Della Draconic Vai Ragni Un altro Ma sei strunt Ma sei strunt Va 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 molto bene Va molto bene Scusate Sono un po' triste Sono un po' triste Allora chicken Vedete ho fatto la log Vai Chicca Un entity detector Ma Lapis 4 upgrade Va bene Vai così 2 mechanical crafter Sì Ancora più veloce 12 epic bin Non ci interessano Change cube Non ci interessano Non lo so che si chiamano Chance cube Ma il francese Vi ricordo che non esiste Dragonic Core Ok questo è buono Non mi lamento Un torch launcher Incredibile Torch launcher Continuamente presente Andiamo dalla parte Delle buccole 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 Ho fatto il blue slime Non mi ricordavo Torch launcher Signori che sfiga Stanno iniziando a essere Un po' Un po' gne Questi cosini eh Possiamo dirlo Che sono un po' gne Ma si Ma si Sono un po' gne Allora 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 Io oggi con voi Devo assolutamente fare Un paio di migliorie Alla farm Punto primo Questa cosa è troppo efficiente Soprattutto considerando Che stiamo sul server E siamo Abbiamo Tempo infinito No? Abbiamo Abbiamo 34.600 lingotti Di ferro Troppo 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 Troppa roba Per quel cosino Piccino Piccino Piccò Quindi io direi Assolutamente Di andare A scoprire Qual è la fornace Che fa per noi Perché? Perché non posso Fare le fornace Di Cioè in realtà Se proprio Dovessi essere Allora So sicuramente Che qualcuno Voi nei commenti Mi dirà Di fare L'ultimate fornace D'accordo? Sono consapevole Però L'ultimate fornace A parte che vuole Il fuel E quindi Per me Non è una fornace Perché A una certa C'è di avere Per forza Le cose La Come dire La L'energia Secondo me Tutto deve essere Governato dall'energia In minecraft Mondato Non possiamo Permettercela adesso Perché dobbiamo fare Sto girello qua E Magari la prossima puntata Ce la possiamo permettere Poi non so come la Con che cosa L'alimentiamo Magari facciamo la gallina Del Del cola Non lo so Può darsi Molto interessante Invece È Oh La Redstone fornace Fornace Perché questa qui Raddoppia Dove sta la redstone fornace Redstone fornace Eccola qua Questa qui Raddoppia Semplicemente Con questo Upgrade Qui Lore E quindi Non dobbiamo più mettere Il pulverizer Ne possiamo mettere Un pochino E sperare che Ci vadano Oppure 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 Quella della meccanismo Ragazzotti Quella della meccanismo È fighissima Perché c'ha 7, 8, 11 slot Non mi ricordo quanti Che sono Strepidosi E quindi vanno Velocissimi Importantissimi Però consuma Una fracca Degesuf Noi non abbiamo Tantissima corrente Oddio in realtà In realtà Possiamo avercela Sinceramente Basta Attaccarci altri Di questi E vai alla grande Quindi 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 Io direi di partire Con un più semplice No vabbè Andiamo con questa Ma chi se ne frega Dove sta Energy Sbelter Eccola qua Vai Facciamo Facciamo Tutto Prima però Di fare Qualsiasi tipo Di crafting Miei cari Io E tra l'altro Mi sa che opto Per la Redstone Fornace Perché ci abbiamo Già degli upgrade Invece dovrei Farmeli Per la meccanismo E sono un po' Annuiato Da tutti Questi crafting Voglio fare Insieme a voi Lo storage Eccolo qua Lo storage Tablet Della RF Tools Penso che Non faremo Tutto il resto Della RF Tools Per quanto riguarda Lo storage O useremo La dynamic Integrated Per fare La Una visione Del nostro storage Perché dalla prossima Voltata direi Che ci avremo L'uplet Probabilmente Quindi andiamo A vedere come si fa Si fa con la redstone Con il goldino Oppela Voilà Con i diamanti Oppela ancora Con Con Gli smeraldi E non ho visto Che blocco Era questo qui Oppela Il quarzo Quarzo che Quarzo che Non è Aspetta Non abbiamo il quarzo Fermi Quartz Quartz In questo pack Come si ottiene Signor Quartz Mi riesca fuori Si ottiene Con la compression Oppure con la gallina Del quarzo Che si fa così Quindi a me basta Cercare un po' Di quarzo Ok Vediamo un po' Due Sì Oppure 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 Tre Ci siamo quasi Ci siamo quasi Giunge a noi Giunge a noi Ti prego Non giunge Ragazzi questo non giunge Ai 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 Se faccio un figlio Ai 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 Non giunge Sicuramente Nei reward Ci abbiamo un po' Di quarzo Ragazzi Siamo Sono assolutamente convinto Ti è Incredibile Dove si ha Oh 32 32 Più 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 Qui c'è un flux Interessantissimo Mamma mia la roba Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Allora come al solito Vi faccio Vi ricordo che Questo sistema È totalmente automatico Quindi andiamo a prendere La gallina Dove sta La gallina che fa le uova Questa qui È la mia amica Che fa solo le uova Ok Facciamo così E mettiamo Oppela Ne facciamo due Una E due Perfetto L'altro quarzo Ce lo teniamo Andiamo sempre 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 A mettere A fare questa cosina Perché altrimenti Dove 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 Stanno Le mie chicken wand Purtroppo ragazzi Fino a quando C'ho questo inventario marcio Me le perderò sempre Ecco questa qui è mia Mamma mamma Mi perdo qualsiasi cosa Allora andiamo A farlo qua fuori Andiamo a Castare questa Eccola qui La gallina del quarzo E Vai cicciacicci C'ha anche lei Noi non vogliamo Una gallina del quarzo Noi vogliamo 16 galline 10 10 Quindi andiamo a mettere Nel nostro sistemino magico Togliamo una brutta visualizzazione E andiamo a metterci Del Eh Eh Dei semi I semi mancano ragazzi I semi mancano tantissimo Infatti Secondo me Il fulcro di questa puntata Sarà Astur Cosa Ok scusate Ma io Visto che non mi sveglio Molto bene E volevo assolutamente Portarvi questa Puntata stamattina Ho messo una sveglia Ho messo molte sveglie E visto che ero sicuro Che non le avrei sentite Alcune le ho messe Con una suoneria In arabo Non vi chiedete Perché c'ho una suoneria In arabo Ve lo giuro È un motivo serio Ma strano Allora andiamo a mettere Le nostre Il nostro I nostri seed Questi qui dobbiamo assolutamente Fare una farm Molti di voi diranno Ah Marcus Fai il garden cloth Della Dell'immersive engineering Questo qui Io vi dico Chi vese in cura Magica Bula Non lo faccio Uno perché va energia Quindi non lo posso velocizzare Due Perché va A energia E non lo posso No è perché va anche ad acqua E non lo posso velocizzare Con le bottigliette Voglio qualcosa di iperveloce Comunque E apposta perché Voglio qualcosa di iperveloce Vi faccio vedere già Come va Questo ciccio ciccio qui In realtà possiamo mettercene due Vediamo un po' se si vede L'effetto No? Se lo velocizzo Tiè Ha ha Bellissimo Meraviglioso Ma non è finita qui eh Alla fine di questa puntata Vi posso assicurare che farete Guarderete Qualsiasi cosa che farmo E farete Oh mio Dio Ma sei Sei bellissimo Marco Scrolla Ti amo Esatto Direte Direte proprio questo L'amor Che muove il sole E le altre stelle Marco Scrolla Lì intanto si sta facendo Quello che si deve fanno Andiamo a vedere Un pochino Il nostro quarzo Ci dovremmo essere Scusate Non so fare il cubo di quarzo Non mi capita spesso Tablet Storage Eccolo qui Questo che cos'è? L'energy tablet Non ci interessa Ci servono I cubetti Di radstone E Voila Perfetto Che cos'è questo? E' un fregno che non contiene i moduli Non mi ricordo se va caricato O va caricato I moduli Andiamo a vedere Storage Module Eccoli qua Sono un, due, tre E la differenza Sono gli stack Che possono contenere Ovvero 100 stack 200 stack 300 stack Noi li vogliamo tutti Ma tutti 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 Frutti Summer Love E quindi ci serve Il legno? Era legno? No E' una chest Questa E' una chest Chest Facciamo così Facciamo così Facciamo così E facciamo così Alcuni mi hanno chiesto A che serve la mini chest Ci possono essere Degli impianti In cui ti serve Avere soltanto uno stack Di una cosa E quindi usi la mini chest Ma in generale L'ho messa lì Perché mi piace E' divertente La mini chest Facciamo il livello 1 Ok L'ope gradiamo A livello 2 Con Due pezzi d'oro Perfetto L'ope gradiamo A livello 3 Con Due blocchi di querzo Aha Un altro blocco Di redstone Aha E infine I blocchi d'oro Stanno lì Signore abbiamo Livello 3 Quindi che facciamo Carichiamo lo storage No D'accordo Lo apriamo Ah no Dobbiamo fare così E così Questo storage diventa Con 300 spazi liberi E ragazzi Possiamo aprire Questo inventario magico Volante D'amblè Così Quindi io adesso Tecnicamente Potrei fare una cosina Ok Mi butto Le cose Tutte le cose qui dentro D'accordo Ok Queste cose le tengo Nella saccoccia Va buono Faccio così E vado qui a prendere Uno stack 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 Oh mio dio Ho preso tutto il platino Che c'avevo Così poco platino Che vergogna Che vergogna Dobbiamo fare qualcosa Prendo E butto dentro Regà Ovviamente questa è la Visuale brutta Questa secondo me È la visuale più migliore Sai Poi Diamanti Diamanti Questo 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 Poi ci serve Questo 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 E questo Perfetto Prendo E butto dentro Tac Ma come andiamo 34 slot Molto 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 Ragazzi Molto Meglio Di Che cacchio Andare in giro Mi cerco le cose Mi perdo le cose Non trovo le cose Ovviamente all'inizio Qualche cosa mancherà Perché staranno Un po' in giro Però per il resto Devo dire Che secondo me È un ottimo Un ottimo aggiunto Tra l'altro C'ha anche una funzione Di autocrafting Quindi se io voglio Mi serve un cubo Di redstone Redstone cube Posso fare così Faccio così E posso salvarlo Qui Ok Così quando faccio così Lui me lo crafta Cioè me lo Me lo evidenzia Me lo mette qui E posso farne Da 1 4 8 O Tutti quelli che posto Molto buono Eh Niente male Niente male Così vediamo Se riusciamo a fare La redstone Furneis In maniera più veloce Ad esempio Mi servono le gear Ok Me ne fai 4 Perfetto Vedete Già ci siamo Già ci siamo Ne fai 2 Vedete Me ne mette Nell'inventario Eh Guarda che comodo Guardate che comodità Incredibles Qui ovviamente ti dice Quello che non hai Quindi io Andrei a fare così E dire Aspetta ma Dove ho messo Il mio glass Paraponsi Ponsi Paz E non lo trovo Perché Perché Non lo so Perché non lo trovo Oddio Dov'è Dov'è il mio glass Perché non trovo Il cazzo Davvero Seriamente Cioè Fammi vedere Se posso Glass normale No Il glass normale Non c'è Non c'è Gallina della sabbia Ti prego Aiutami Dammi oggi Il tuo glass normale Così lo ripetiamo I nostri meccatori Grazie 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 E ci facciamo Del glass Non sapevo di non averlo Davvero Strano Stranissimo Beh Detto ciò Andiamo a vedere Andiamo a vedere I brick Ci servono Quindi devo andare a cercare Per forza Di la clay Ottimo direi Facciamo Così Yes Tra l'altro Clay che per forza Di cose Mi serve La gallina Perché è una delle cose Da farmare Che Si puoi farmarla Non dico niente Puoi farmarla Tranquillamente Con la cosa Con la Tutto quanto Però Ci sono Molti metodi Per farmarla Però Capisci Però Vediamo un po' Snowball chicken Con la sand chicken La snowball E la lapis Più la log Ah Ah figata Possiamo fare In questo tempo d'attesa Posso assolutamente fare La lapis Si Prendo la lapis Prendo la log Tra l'altro c'è Una probabilità Che ci escano Molto cicciotte Le mettiamo insieme Ovviamente Non hanno Non hanno i seed Quindi Andiamo a metterci Voi come state messi Ah Eh Senza potenziamento Sono lentissime Giustamente Poverine Sono super lente Diamogli una botta Diamogli una botta Vediamo Se esce Non esce Uh L'ho vista No Si Fero No Aspetta Ah Oh mio Dio Aspetti Signora Gallina Signora Gallina Aspetti qui Non se ne vada Ok Rimanga lì Rimanga lì Rimanga lì Rimanga lì Rimanga lì Rimanga lì Ma dove l'ho messo L'ho messo dentro Non l'ho messo dentro No regà Dove l'ho messo Davvero Sul serio Il mio chicken È cosa No Non scappare Eccolo 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 ragazzi Snowball chicken Fermati Fermatevi voi due Snowball chicken Eccole qua Sono due Perfetto Ovviamente non hanno I seed Poverini Sono molto sad Però Questa nether quartz È di livello due Perfetto Molto bene Molto bene Andiamo a metterceli Anzi andiamo a prenderne un pochino Guardate Guardate come è ricresciuto Bomba ragazzi Bombissima Anzi Visto che in questo momento Ci posso servire un po' di grano Mentre faccio le mie cose Un po' di grano Mica è un pirupiro Facciamo così Facciamo Buttiamo dentro questi seed Velocizziamo Perfetto Alcune Alcune galline ovviamente Saranno nell'incrocio Saranno più lente di altre Ovviamente Di quelle basiche Perché ci stanno i tier Vabbè intanto No Intanto ci fermiamo E facciamo Finiamo di fare la furnace Andiamo A vedere Redstone Furnace Eccola qua Sbata sbrem Ci serve comunque Una tin Di Una tier Di Una gear Di tin Scusatevi Mi sono impappilato Ok Sbata sbrem Perfettissimo E poi Dicevamo di fare questo Però non abbiamo preso Cioè abbiamo preso la clay Abbiamo fatto la gallina della clay Però poi non l'abbiamo scotta Ma che rincoglioni ti siamo Eh Incredibile amici Ora andiamo a fare Un harvester Intanto Vediamo Se me lo posso permettere Che cosa Scusate Che cosa ci serve Ci serve Il quarzo E un dispenser Il dispenser Posso farlo Tranquillamente Oppela Perfetto Mentre il quarzo Di cui prima Dov'è? Dov'è? Il quarzo Dov'è? Non lo so Dov'è? Mortacci via Dov'è? Non lo so Scusi Signora Nederquartz gallina Sì Posso prendere il frutto Del suo seno Cioè se io adesso la metto qui Lei si arrabbia No aspetta Questo Ah mi serve un altro Roast Il signor Roast È finito Il signor Roast Non c'è più Perché Vabbè la metto qua Posso metterla qui Ah no Mi serve La flag Mannaggia ragazzi Mi serve un sacco di cose Sto pacca È gridoso Però Devo dire Ti chiedo le cose Va bene Niente Non riuscirò a fare mai Una cosa Il quarzo Io ce l'avevo Ma dove è finito? Vedi? L'ho buttato qui dentro Perché sono un Bravi Bravi Proprio quella lì Era la frase giusta Sono un parla Allora Bam Io giuro Io giuro che l'ho fatto insieme a voi il dispenser Vero? Ragazzi c'è qualcuno C'è Questo è un dropper Ma Vi ricordate che l'ho fatto? Ah ma l'harvester What? Ah Ne ho fatto uno Scusate Scusate Sono un pirletto Sono un pirlettino Guardate l'harvester Guardate che figata Lo metto Lo metto storto No lo metto al contrario Vieni qui Questo è upissimo ragazzi Cyclic 15x15 Ti fa vedere Tutta la grandezza Quindi Non c'è Possiamo farlo Molto più grande storto Single Io gli direi di fare l'area Ok Sempre attivo Ora per adesso Perché poi andremo a fare una cosina interessante Ma per adesso Io ci metto Quei cosi che danno l'energia Quindi Quindi andiamo a prenderli di qua Eccoli qua dentro Togliamo la brutta visualizzazione E andiamo Aspetta che c'ho mai il cibo Mi mangerò una pizza con pineapple Vi prego non togliete il follow ragazzi Non togliete il follow Intanto visto che siamo qui Vi ricordo Che stasera andiamo in live con GTA Allora mettiamo Sti 120 fprf Come potete vedere sono pochini Mettiamone un po' di più Perfetto Guardate qua Signori Avete appena visto La figata C'è Questo Questo fregno Preleva Preleva In maniera anti lag Quindi il server Non ne risentirà È una figata È davvero davvero Una figata Vuole molta più Più corrente Strano Che voglia così tanta corrente Però effettivamente Possiamo metterlo un pochino Più lento No Non possiamo farlo Non posso farlo Non ho capito Perché alcune cose Sono cadute Vediamo un po' Ecco Oh L'ha preso Beh ragazzi Funziona Sti cavoli Che vuole più Della corrente Che non mi chiede Funziona Ci abbiamo un sacco Di semi Va bene così Ok questo sarà Il metodo Con cui li raccoglieremo Andiamo a buttare Un po' di semi qua Andiamo a buttare Un po' di semi qua La mia signora gallina Sta qui Se mi dovesse servire Altro corso Non mi serve Non mi serve Non mi serve Però se mi dovesse servire Ce lo dobbiamo ricordare Quando facciamo i semi 10-10 È vero È inutile che torni Dentro le cose Fantastico Vado Di solito vado Vado qui perché c'è la crafting table Ma adesso non ci serve più Meraviglioso Redstone Ah qui c'è anche una ricerca Se volete Redstone di nuovo Stone Furnè Devo scrivere lì Scusa No vabbè 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 Ok ragazzi L'ho Ci dovremmo essere Bam No dobbiamo fare loro Dobbiamo fare loro Pirpim E Signori abbiamo la prima Di una lunga serie di fornaci I porcianci Io direi di andare a prendere questa fornacina qui Ok Ed eliminarla Le fornaci A differenza di quelle dell'enderio Che però sono davvero pallose da fare ragazzi Le fornaci della nostra amica Thermal Non prendono direttamente Mettono direttamente Ma non prendono direttamente Quindi a noi ci serve Un flat transfert node D'accordo Lo mettiamo qui Perfetto Ci mettiamo la nostra ciccia ciccia Lei si carica Diciamo di prendere Da sinistra Ok E come potete vedere arriva E di mettere A destra D'accordo E voi dite Ammazza quanto è lenta Sì C'avete ragione È lentissima Però Sai lentillissima Però possiamo fare degli upgrade E se non sbaglio Ne avevamo trovati Quanto vado lento Vorrei andare più veloce Lo sapete che nella puntata Che ho perso Edelman ma tu Cioè nel senso Sei sempre tu Cioè mi dispiace pure un pochino Ah c'è un sand muffler Credo che Ok d'accordo ragazzi Credo che lui sia Una Una Non lo so Un Come dire Lui esista Ma non esista È tipo l'enderman di Schrödinger Però non so se Però adesso faccio così Perché non li trovo Cioè non so che farci Sicuramente Poverino Mi dispiace un po' D'accordo D'accordo Ciao enderman Che non esista Allora andiamo a vedere Gli augmentation Vi ricordo Che abbiamo fatto L'augmentation Per Le I produttori di energia Quindi per i cosi che producono lava Io andrei a fare questi Che dovrebbero darci Speed process Perfetto Quindi Me ne fai 4 Si 4 mi piace Bam Me ne fai 4 E abbiamo gli speed process Ma vorrei anche mettere Il Addition Smelting output Ma perché raddoppiare l'infinito Ora che ci penso Quando possiamo semplicemente farlo più velocemente Quindi No Non è un conversion kit È un upgrade kit Oh shit Oh no Di nuovo Ragazzi sono molto sad Ma dai da qualche parte ce lo dovrei avere Vediamo un po' Vediamo un po' No Sono sad Sono sadissimo Vabbè andiamo a prendere l'invar Dov'è il mio amico invar Invar Qui Invar Qui Non c'è Non c'è ragazzi Abbiamo perso Abbiamo perso Abbiamo super perso Eh io lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Sono molto triste Sono molto triste Play Play despacito Per pliz Play despacito Dobbiamo farlo Però senza without invar E infatti Eccolo qua L'invar è una lega È una lega Per cui io vorrei tantissimo La gallina Oppure le cose Possiamo farlo Però all'interno Possiamo farlo qui Possiamo farlo qui Scusate eh Nickel Sì signore E ferro E ferro Giusto Possiamo farlo qui Perché mi dispero Mani nei capelli Signori ci siamo Ah ma era così facile Velocizziamo Era così facile Eh pezzo di fanger Eccolo qua L'invar Perfetto Ottimo lavoro Ragazzi ovviamente A dispetto delle prime due puntate Qui c'è un po' più da craftà Quindi Comprenderete che Dove sta io Eccolo qua Questo Fai così E vuoi Però vuole il bronzo Vuole tutte le leghe del mondo Il merda Quindi ci serve questo E ci serve il tin Il tin C'ho 10.000 di tin Alla terza puntata Ragazzi ma Ma che bomba sono Ma che cavolo Di bomba Sono Dov'è Tin Tiririn Non l'ho preso Il copper Ci devo mettere il copper Copper e tin Tecnicamente a casa mia Fa lo sbronzo Però non so se Fa lo sbronzo Fa lo sbronzissimo Eccolo qua Perfetto D'accordo D'accordissimo Allora possiamo farla Ci serve la La cosa di stone Giustamente Voilà Opela 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 Final Final Le faccio un pochino Ragazzi Le faccio un pochino Ok abbiamo il kit Poi abbiamo Io vorrei fare proprio il conversion Questo qui Però ci serve L'electrum Giusto L'electrum È oro E Vedete perché non faccio mai E silver Vedete perché non faccio mai la roba Della Della thermal Perché uno si rombe le balle Vai Perfetto Vai ciccio Vai Eccolo qua L'electrumone mio Bello de casa Ti butto tutto dentro Vado Sto buttandoti Ti ho buttato Quindi Electrum Kit No voglio fare questo Sì vabbè questo qui Reinforced conversion E questo qui Ci serve un silver Ciccio ciccio Perfetto E poi Wow Wow Vuole pure l'hardened glass Vuole l'hardened glass L'hardened glass Si fa Con il Motrinale Necessare sufficiente Coppa Il piroteo Aiuto il piroteo Sono molto sad Adesso faccio così Però adesso Ragazzi mi dispiace Mi dispiace Ci metto soltanto uno E' una storia molto triste Però se facessi Ma facciamola Facciamola Ci abbiamo sto coso E' facilissima da fare Facciamo l'induction smelter Eccola qui Dai Bomba Bombissima Come al solito Ste maledette Io adesso ne faccio 150.000 Ragazzi Ste rondelle maledette Devono morire Devono morire davvero Barabam Ancora Un pochino Quella di Invere Poi ci dovremmo essere Eh no Ci dovremmo essere Proprio col cacchio Vedi 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 Ti costringi a ritornare Valedetto Ok Yes Signori Siamo troppo forti Siamo troppo forti Non ci ferma Non ci ferma Signori Quindi ci serve Per fare L'hardened De Ned Ci serve L'hardened Quello normale Quello normale Quello normale Che ha deciso di fare 750.000 Hardened Cazzo di Buddha Si Non c'è quello normale Mi scusi Oh eccolo E' lui E' lui Ci serve Il pulverized Pulverized Lead E pulverized Obsidian Ecco qua Ecco qua Signori Un simple Sackville Che mi fa L'Ossidiana Un simple Sackville Che mi fa Lead Pulverized E Signori Fra pochi Ci dovremmo avere Il nostro vetro Vi posso dare un consiglio Se dovete fare una mod Non mettete mai I crafting Con la roba Polverizzata La mecanism Mette gli upgrade Con la roba Polverizzata Questo qui è un esempio Di roba Con la roba Non lo fate Non lo fate E' stressante Un giocatore Un giocatore Vuole i lingotti Chiunque Sanno di mente Vuole i lingotti Non terrà mai le polveri Quindi fare Rifargli polverizzare le cose Dopo che le hai cotte Sei stronzo Sei stronzo Infatti prima In sistema un crafting Che mettevi Il lingotto di lead E direttamente L'Ossidiana Però l'hanno tolto Perché Perché non ce pensano Perché non sono Giocatori Cioè noi siamo i giocatori Dobbiamo dirglielo A sta gente Quindi finalmente Possiamo fare Il mio Bellissimo Reinforced Ciccio ciccio Che però Come potete vedere Anche questa cosa Ha un pochino di problemi Ovvero Dobbiamo Prendere il metadata Giusto Bam Signori Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Quindi Questo l'abbiamo fatto Questo l'abbiamo fatto Questo lo facciamo Andiamo a buttarci dentro Finalmente Gli upgrade E come potete vedere Adesso la velocità È abbastanza interessante Poi si potrebbe fare Quello di Enderium No quello di Signi No quello di Signi No quello di Signi Non l'abbiamo fatto Poi si potrebbe fare Quello di Enderium L'Enderium È Non è proprio una lega Se dobbiamo essere sinceri Però C'è la possibilità Di farlo Già volendo Facciamo così E poi Con la sabbia Lo pulisci Davvero Davvero Però vuole il pirato E mosti cavoli Allora Come potete vedere Qui sta andando Io farò Altre di queste Le metterò In combo In modo che guardino Il mio storage Per pulire un po' Questo inventario Perché Effettivamente Ragazzi Sono Troppo ricco Sono davvero Troppo ricco Bene Bene Fatto questa piccola Implementazione Sulla fornace Che lag Incredibile Ora vorrei andare A risolvere Una piccola problematica Cioè In realtà Vorrei andare a far male Come uno schifoso Allora vedete adesso Abbiamo risolto Il nostro problema Con i semi No Perfetto Però se proprio Dovessi essere Molto 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 Ma che dico molto Molto sincero Questo metodo Va bene Con una cosa Che cresce veloce Come i nostri Amici semi Guardate che belle Che sono Come crescono Rigogliose Queste galline Abbiamo Attenzione Abbiamo quasi Abbiamo quasi Una gallina 10-10 Del quarzo Ottimo In questo caso Va bene Con l'erba Con il grano Però In questo pack Si grinda In due In tre modi Uh Ma ho una Ho delle reward Dove sono? Ah ah La gallina Del Grazie Un si Un altro Ma sul serio Ma sei Stronzissimo A proposito E' vero Dobbiamo fare la 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 Dov'è? Eccola qua Uh Ok Andiamo a vedere Per fare quella Della clay La dobbiamo mettere Con quella Della sand Quindi se io adesso Non volessi mai Questo Andrei qui Andrei a cercare Mi pare di avere Due della sand Da qualche par L'ho vista L'ho vista Eccole qua E le andrei a mettere Insieme per creare La clay Ottimo direi Oppela E oppela Vediamo Oh Super good D'accordo Una bella botta Di velocizzazione Vai ciccia Facci sognare Si Vediamo Che cosa nasce Dal loro amore E' nata una Candidata 10 10 10 Va bene Chi se ne frega Ancora Una sand Iniziano a essere Un po' difficili Qui i crafting Non c'ho più energia Devo fare un wireless Si Ma sei Struns Sei Sei un po' Che struns Vediamo un po' Uh Eccola Eccola ragazzi E' giunta E' giunta Clay chicken Signori Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Lei Questo mi potrebbe servire Quindi Me lo tolga Ok Perfetto Vediamo se me ne esce Perfetto Me ne è uscita un'altra E voilà Purtroppo non partono 10 10 Cioè partono da 0 Vabbè Chi se ne frega E credo che dipenda Molto dall'ordine Oddio Non è che ho Chiappato il coso Mi sa che ho Chiappato il coso Perché continui a romperti Wait Ok Non ho capito 10 10 10 9 E questo è Questa fa cagare Vai così Scusa Va bene Credo che dipenda dall'ordine Perché io mettevo prima Sand E poi quest'altra La Snow Ma la Snow che ci dà Scusate E' così Le palle di neve D'accordo La mettiamo qui Palle di neve Questa Poi magari Facciamo una sfida Ditemi nei commenti Se volete che faccia Tutte le galline Del pack Tutte le mucche Del pack E metterle a mod Di qualcosa Un'altra cosa Che mi avete stracciato Le palle Alcuni Alcuni Soltanto alcuni E' Di fare I Flux Bor Questi qua Dove stanno Non il drill Questo qui Ma quello della Uh il magneto Mi serve Il magneto Mi serve Assolutamente Vai Oh grazie Meno male Com'è che si attivava V Perfetto Oh Meraviglioso Posso metterlo Nel bar Perfetto Perfetto Ah se mi vedete Muovermi più velocemente Perché in live Ho fatto uno speed Sharp Signori Sharp Allora il flux Bor Alcuni di voi Mi hanno detto Perché sicuramente L'avete visto da qualcuno Che ha droppato Il flux Bor Resonante Però farlo E' davvero Una natura di cavolo E E sinceramente Per arrivare a questo Devi fare ste cose Questo qui che fa Scava 3x3 Cioè Boh Non lo so Assolutamente Vi faccio Ogni volta Vi faccio un piccone Di ferro E Fino a quando Non ho le cose Della draconic E poi sti cavoli Credo eh Non lo so Se volete Se volete Vederlo Però Boh Diamond Dumber Voilà Non ho gli stick Lo sapete che se Ragazzi Non so se lo sapete Ma se mettete Oppela La legna Cioè Il sapling Dentro al bonsai pot Poi vi esce la legna Cioè Incredibile Lo sapevate Bravi Bravi Siete molto informati Bravi Si vede che gioca da minecraft Ho dato Da tanto Bravi Bravi Quanta è la durabilità Di sto fregnolo 3000 Cavolo Potevo farlo prima Buonissimo 3000 Super buono Allora Quello che voglio dirvi È che in questo pack Tiè che bomba In questo pack Esiste anche La L'agriculture E tra l'altro È uno dei La mist Mistcraft Agriculture È uno dei Modi più Importanti Per farmare Le nether star Ad esempio Ok Nether star Che io spero Di farmare Il prima possibile Forse già Dalla puntata Successiva Se non faccio L'upload Perché Perché Saranno Una fonte Importante Di EMC Ok Perché Il pack Alla fin fine Ti chiede Di fare Di avere Infinity EMC D'accordo È quello che ti chiede Il pack È il pack Che te lo chiede Posso farlo Ma perché Di qua 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 Oh my god This is fucking Ecco Questo non lo volevo fare Allora Signori Ho allargato Mi sono accorto Tra l'altro Che questo campo È paro Ok E questo fa Una cosa dispara Ma non vi preoccupate Fa il suo sporco lavoro Fa il suo sporco lavoro Non ve ne dovete preoccupare Togliamo la visuale Vedete che è tutto cicciottato Questi qui Velocizzeranno Ancora di più Per il grano Direi che abbiamo risolto Perché è velocissimo Ragazzi Basta piantarlo Ed è Super veloce Io però Voglio farvi vedere Qualcosa di più Voglio farvi vedere Una farm Di Superior Di Inferium Seed In realtà Di Essenze Perché vi ricordo Che le essenze Cioè Queste qui Vengono Tenute Dalle precedenti E quindi ci serve Necessariamente Tantissima roba Quindi facciamo Un esempio stupido Il superior È dato da 4 Superior Superium Che è dato da 4 Intermedium Che è dato da 4 Prudentium Che è dato da 4 Inferium Quindi è 4 Alla Quarta 4 Alla Quinta Non lo so Quanti sono I passaggi Ci vuole tantissima Di quella Robissima Ora Che cosa Voglio fare Insieme A voi Intanto Liberarmi Da questo inventario Fastidioso Qui come stiamo messi Eh Stiamo andando Stiamo producendo Molto bene Molto bene Continui così Continui così Chissà che succede Se faccio così Non succede niente Why you do this Non mi dire che Ah ok Minchia OMG OMG Perché non lo passi No Ragazzi abbiamo Ma dai Ma dai Non mi funziona Il transfert Non do marcio Ai 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 Se faccio un figlio Importanti Importante scoperte Eh lo so Eh lo so Purtroppo anche I migliori Succede anche I migliori Quindi dobbiamo fare Una cosa del cenere Vediamo Oppela Ed oppela Vediamo La roba arriva Signori Veloce eh Non è male Non è male Non è male Dai almeno Questo si sbrindella Questo si sbrindella Questo si sbrindella Questo un giorno Si sbrindellerà Tutti ci sbrindelleremo E prima o poi Non sarò più impallato Allora Andiamo a prendere No scusate Devo andare di qua Andiamo a prendere Il Prosperity Shard Eccolo qua Lo buttiamo dentro Alla nostra Shard No Questa Perfetto Lo buttiamo dentro Insieme ai seed Io sono andato di là Mi sono riempito Dei galline Scusatevi Perché ho scoperto Di avere Già la gallina Del quarzo 10-10 Tac Guardate che bomba Mentre quella Da clay È davvero lenta Però si sta affando Ottimo Ottimo Allora Ci serve L'inferium Come otteniamo L'inferium Scusate No ma L'inferium essence Lo possiamo ottenere così Senza le shard Andiamo a prenderla Dalla mob farm Di nuovo Il nostro amico Dov'è 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 Intanto Visto che ci sono Prendo un pochino Di cose Che potrebbero Esservi Ecole qua Perfetto Le prendiamo Minchia Quanto ce n'ho Vai Vai tranquillo Butta tutto dentro Ciccio Butta tutto dentro Non ti preoccupare Perfetto Ok Prendiamo anche un po' Di questo Oddio non è che ci servirà mai Però va bene Le ender pearl Sono importanti Questo non ci interessa Qui c'ho delle Non so perché Testa di questo Testa di questo Va bene Va bene Dovrei aver fatto Un'ottima collazione Meraviglioso Poi farò Un pochino di spazio Non vi preoccupate Allora che dicevo Normalmente Per fare i seed Questi qui Tipo la roba Che ci serve Ci serve Il crafting seed E il crafting seed Alla base Serve appunto La prosperity shard Nel mio caso Io voglio fare Gli inferium seed Che sono questi Si fanno facili Facili Ok Bam Vediamo il livello Successivo Vedete Serve il prudentium Quindi io dovrei Trasformare questo Inferium In prudentium Per avere Un livello 2 D'accordo Livello 2 Che si ottiene O con la master infusion crystal Che è questa E qui ti serve il supreme Per l'appunto Oppure Con L'infusion crystal E basta Che è questo affare qua Ok Che ha mille Usi Quindi me ne farei un paio Sperando che Veda i metadata Fatti in maniera decente Andiamo a vedere Se possiamo fare Già il prudentium Vediamo Infinito Come potete vedere Non lo vede Perché Perché lui la vede intera Ok d'accordo Però qui Ormai è usata Quindi Lui ogni volta Madre No vabbè Così sei Sei un pacco incredibile Ci serve un altro Autocrafting Qualcosa che Possa Crafting Vediamo un po' Crafting station Maybe Autocraft operation For a process No Ci serve No Havamo visto il mechanical use Oh eccolo Vediamo un po' Se Se ci fa questa magia Perché Ragazzi Qui bisogna andare Questo è un momento In cui vai a scoprire Come funziona Il pacchetto Ok Questo è uno di quei momenti Tu metti questo E sembrerebbe funzionare Wow Così facile Sembrerebbe funzionare Fantastico Davvero davvero carino Merdaviglioso Ottimo Ok Non è velocissimo Però almeno Non mi Non mi vede Non mi Non si impappa Con l'infusion crystal D'accordo Ok Ora facciamo un rapido calcolo Mi sono dimenticato di avere La cacchio di cosa Della mozione Del tempo E dello spazio Quindi posso tranquillamente Fare così Guardate qua Brrr Fantastico Posso fare così Voilà Oh mio dio No dai Di uno Di uno Non ci posso credere Vediamo Oh sono due No 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 dai Ce ne servono quattro Raga Quindi Capite che Da voi Che la quantità Inizialmente È tanta Però Noi con questi metodi Super velocissimi E super magici Possiamo effettivamente Forse possiamo Gabbarlo direttamente Forse possiamo Però fregarlo Perché con la mob Farm è importante Ok Quindi ottieni tanti Io faccio così Questi li butto dentro Ok Senti la Che cazzo Si sente la mucca Da qua Ne prendiamo Un altro po' Andiamo a vedere Perché ragazzi Forse riusciamo a fare La master infusion In questa puntata E ci starebbe da panico Ci starebbe davvero Da panico Buttiamo dentro Tutto quello Che abbiamo Signori Oppela Poi vabbè Faremo un cosino Automatizzato Giuro Come potete vedere Qui è finito In realtà Noi abbiamo preso Anche degli upgrade Cioè li abbiamo trovati Degli upgrade Per questo Però Diciamo che non Uh no Tu sei mia Cosa Che è successo Però Serve la power grid Che non abbiamo adesso Poi vi spiegherò Che cos'è Per chi lo volesse sapere Ok andiamo a fare Il Il secondo livello Questa è mia Grazie Per favore Vincula tutto Ok vediamo se prende Con lo shifter A tasto destro Lo prende Ma No 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 Fermo 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 Oh Si No aspetta Io devo fare questo Scusa Vai Lo fa Lo fa Grandissimo Bellissimo Fatto troppo bene L'extra dildis Ok Molto good Vai ciccio Velocizza Già fatto Incredibile amici Incredibile Uno R Bam Si Oh my god Abbiamo Dove Supreme Essence La terza Cazzo di puntata Va bene Va bene Quindi mi fai fare la master Mi fai fare la master infusion Non ci posso credere Non ci posso credere La master infusion Signori Questa A differenza di quelle altre Non si consuma Non si consuma Oh my god This is fucking Incredible Quindi Tecnicamente Io posso fare Vediamo se ce l'abbiamo Crafting Della RF tools Non la crafting station Si era la crafting station No non era la crafting station Ce n'era un'altra Non mi dire che l'ha bloccata Perché ti uccido RF tools Quando non trovate qualcosa Dobbiamo per forza andare a Eccolo qua Crafter Crafter Signori Lapiscazzoli Lingotti d'oro Shift Tasto adesso Per prendere lo stack Ok Facciamo così Buttiamo tutto dentro Ragazzotti Opela Opela E andiamo Allora Crafter Crafter Oh eccolo qui Questa è una bomba Questa è davvero davvero Troppo 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 utile Ce ne servono un po' Perfetto Andiamo a fare questo Manca tutto Ci manca praticamente Qualsiasi cosa Non fa niente Quindi l'andiamo a fare Perfetto Uno Crafter livello uno Boom Crafter livello due Boom Crafter livello tre Ragazzi Il crafter livello tre È spettacolare Andiamo a mettere Questo coso qui D'accordo Guardate C'è tutte le recipi Ok Andiamo a prendere La master infusions Opela Opela Noi possiamo mettergli Qui Il crafting D'accordo E Non succede niente Perché non succede niente Scusa Scusa Ma la tocchi la medusa Ah devo per forza Darglielo di Di botta io Ok scusa Perdonami Bam Vedete Ok selezioniamo Ah devo selezionare qui Sorry Sorrisio Faccio Poi gli vado a dire Quella con la master Dove cavolo sta Quella con la master Pronto Guarda quante ce ne stanno Oh mio dio Sono tantissime La odio questa mod La odissimo Vabbè faccio così E taglio la testa al toro Sì Oh eccola qua Ragazzi non so che cosa sta succedendo Ho fatto l'inferium No mi sono un po' appinato col cervello Ok allora Questo Poi Questo Ok Però devi cambiare Allora prudentium è questo Però devi cambiare Se no non te lo fa Quindi a sto punto scrivo Essence Scusate se mi sono impappinato il cervello Andiamo a fare questo Che non ve lo fa Non so perché non ve lo fa Brondo Mi scusi mi fa collaborare Eccola Oh vedi Ma che strano Fai Poi facciamo il su premium Ok E ci mettiamo questo Perfetto E infine Ci mettiamo il superior Superior Dov'è Signor superior Eccolo qui Perfetto Quindi se io adesso butto dentro Uno di questa E questo Se gli do la corrente Giustamente Si No Che stronzo Mi ha preso Ok vediamo Oh yes Oh yes Ora Se io gli dico di non farle uscire Ma tenere nell'inventario interno Ok Il crafting diventerà ciclico Guardate Ah e purtroppo Se non mettete Appli Se non mettete Appli Non lo fa Quindi dobbiamo fare Appla 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 E appla Guardate Boh Signori Questa cosa È Meravigliosa Cioè abbiamo Abbiamo un auto crafting Di una cosa Che normalmente Ce l'avresti Tipo Non lo so Affan 10 puntata 20esima puntata Quando mi pare E adesso sapete Che cosa facciamo Vi faccio vedere La cosa più veloce Del mondo Oh mio dio Ma è enorme Sto cosa È tipo un tavolo È giunto il momento Di creare Lui L'oggetto Dei desideri Imagineri Time Block Signori Due nether star Che tra l'altro Devo andare assolutamente A cercare Ok Eccole qua Che abbiamo Vi ricordo Tirato fuori Non dal cilindro Ma da due Giant cube Se non sbaglio E poi Un crafting Con catenato Che odio Però Sapete che c'è Vi posso assicurare Ci conviene farlo Ci conviene farlo Perché Mamma mia È tanta tanta roba La dark stone Non ho idea La gallina della stone La stone Viene sempre un po' Bistrattata Sono un po' Triste per la stone Ok Ne facciamo Cinque Di questi Come potete vedere Ogni volta Vuole un livello Inferiore Fino arrivare a questo Quindi se io faccio Ne faccio due Poi Oppela Faccio Mi serviranno quattro Per farne quattro Mi servono Altri di questi Bam E mi servono Altri Di questi Bam Vai ciccio Ora Potrebbe essere Normalmente Questo si fa Quando c'hai tutti i materiali E Tu dici Vado alla grande Vedi perché Anche perché Ora che ho fatto questo Ok Mi accorgo Che me ne servono Altri tre Capito È tantissimo È una cosa incredibile Gigantesca E quindi normalmente Lo fai quando c'hai tutti i crafting Però ragazzi Ne vale la pena Quindi io Andrò ad abbondare E ci vediamo Fra pochissimo Quando ho fatto tutta Questa cosa Ciclica Maledetta Che vuole Che faccia Pazzo di fango Tra l'altro questo qui Ah ok No lo possiamo Ottenere Lo possiamo ottenere Il quarzo Vedi a che serve la gallina Grande Ok ci dovremmo essere In realtà è stato Piuttosto facile Abbiamo un Qubit cluster Di livello 3 Possiamo fare così Signori Abbiamo il time L'imaginary Time block Ora Voi dite Ma Marcos Ma che cavolo Dovrebbe essere L'imaginary Time block E' la cosa Più Che esista Cioè Forse non c'è mai Stata In minecraft Dato Niente di meno P E' davvero Esagerato Vedete queste Con la combo di quella Con la combo di quell'altra E' niente a confronto E' zero E' davvero Davvero una cosa assurda Allora fatemi buttare Dentro delle cosine Che voglio prendere Un pochino Di questa roba Ragazzi Siete pronti Spero che siate pronti Perché Qui Il farming Diventa Incredibile Incredibile Per i più affezionati Della project Si ricorderanno La project zone Bammasi Dio Guardate qua Vabbè Che meraviglia Ah e questa qui E' la versione lenta E questa è la versione veloce Come potete vedere Consuma lira di dio E abbiamo già il supremo Regà posso fare la fornace Posso fare la Posso fare la fornace Quella che la gente dice Fai la fornace A parte che la dark matter E' più bellina Eh però Ah no c'è la nether star Dai Vedi ecco perché Oh mio dio Che bello che è Oh mio dio Che bello Va bene Allora Faccio un esempio Stupidissimo Non abbiamo Finito l'energia No Devo farmi una batteria Portatile Ok Ok molto bene Allora facciamo un esempio Stupidissimo Dicevamo mettiamo I seed di Eh Li avevamo fatti Mi sbaglio Ah eccoli qua Guardate I seed di inferium Ok Questi qui ti danno L'inferium Quindi non devi più Ottenerli con la farm Guardate Guardate Cioè Ok Vi ricordavate quanto Quanto li bustava Questo Come potete vedere I seed A parte che è zompato Non so perché Poverino Cosa è successo Caro Aspetta Prendo della glowstone E ti faccio un Non saprei Ah li butta per terra Ah Non lo sapevo Questo gusto Ti faccio Ti faccio Delle luci Non lo so What the fuck is this Cosa Ah Non lo so Non lo sapevo Pensavo fosse la luce E invece no No si sarà sicuramente la luce Vediamo Ok 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 Si era la luce ragazzi Era la luce Marcus Krohn Usa la sabbia per costruire Dal 1900 Ah perché Ah perché Va bene Ok Allora insomma È Vedete Gli da un bel boost Questo no 28 Cioè è passato da 28 Qui sarebbe rimasto a 0 Per sempre no 42 Eh buono Buono Attenzione 71 Considerate che sono 2 E queste qui si fanno con la nether star Grow Accelerator Si fanno con 2 nether star a capoccia Più 4 di questi Vedete un botto E la fine Piano piano In qualche minuto 71 Possiamo andare Un pochino più veloci Ciccio 85 C'è il fulgro Perfetto Fantastico Ok Metto questo La metto qui Vi diamo l'energia D'accordo Ora Prendo questo Scusa Non ho capito Non ho capito Le passo Il mio marito Signori Questo coso Velocizza Da qualsiasi crop In una maniera In Cre Di Bi Le Si io Io pianto Io vorrevo piantare il grano ragazzi Sto appazzito Incredibile Incredibile Se ne sbatte il cazzo del bombilla Non è bombilla questo Non è un effetto di bombilla È un effetto di tic Cioè tic più veloce In maniera Importante Quindi Ragazzotti Tecnicamente Noi possiamo piantare qualsiasi cosa E ottenerla quasi istantaneamente Fare le farm De Kristoff Una farm Di semi Di Netherstar Bam La metti lì Velocissima Fantastico Mi serve Della glowstone Che non vedo Eppure L'ho usata Tre secondi fa Quindi O sono pirla O sono pirla Voglio andare A fare Un ragazzo Mi fa Oh Adesso che Andarli lì Puoi Ah Bruciare il fuoco Ok Puoi andare Nel nand Sopra Per prendere Io gli ho detto Guarda che Dazza che metti La glowstone Dentro al secchiello Allora Voi vi ricordate Sicuramente Gli enderly Lysid Quanto sono lenti No Non so se però Funziona su questo Vediamo Scopriamoli insieme Mi sa che vanno al buio Vediamo Non lo sapremo mai Mi sa che su questo Non funziona Provo al buio Sono molto curioso Sono un tipo Curiosissimo Quindi Facciamo così Sì E poi facciamo Prendiamo il dark glass Che non ho Dark Glass Ce l'ho? Non ce l'ho Però non sembra crescere Forse se ne sbatte il cavolo Forse L'extrautilizzo Ah perché non funziona il bombile Non funziona L'aggiornamento Secondo me quello lì cresce In base al tempo Non in base ai tick Casuali Perché Minecraft funziona un po' strano Se devo essere molto sincero Funziona abbastanza strano Prendiamo Un dark glass Soltanto Che culo Ne ho uno soltanto Va bene Non so il raggio Del time Non lo so Lo ignoro Fortissimamente Vediamo un po' Vediamo 3 2 1 No ragazzi Non cresce Sono molto triste Vabbè era una prova Era giusto farla Era assolutamente giusto farla Quindi chiediamo qui Vi ricordo che siamo in una Stoneblock O skyblock Che Dio si voglia Quindi non fate mai Dei Come dire Non lasciate bui dei posti Perché possono succedere i casotti D'accordo? Molto bene Signori Allora io direi Di andare a rendere importante la nostra farm In maniera Appunto Super figlia Ora io direi All'inizio Abbiamo 11 di questi Tra l'altro la cosa bella è che possiamo Tornare indietro No? Quindi se ci serve Tipo Il prudentium Ci basta fare così Poi faccio così E ho già un pochino Tutti quelli che mi potrebbero servire No? Quindi se io volessi fare Il seme Di Questo Posso farlo Il seme Di questo Posso farlo E poi mi serve Oppela Qui non c'ho questo Vediamo se riusciamo a ottenere Ragazzi posso fare Il seme tier 5 Mamma mia Mamma Mamma mia No aspetta Questo qui Tier 1 Madonna Nella prima puntata Nella terza puntata Ma come faccio? Ma come? Ma forse devo dare una regolata Signori il tier 5 Questo qui te ne droppa 5 Ok? Ora se io lo metto qui Normalmente vedete Ci metto un po' Vi faccio Vi ricordo che abbiamo Il nostro amico D'accordo? Tra l'altro Consuma pochissimo Consuma davvero poco Incredibile Incredibile Andiamo a mettere anche Il nostro amico Questo E tecnicamente E tecnicamente Ogni volta Che ticca Giusto Perfetto Prende 5 di questi Che vanno qui dentro E ti crea questo qui Quindi signori Signori noi adesso Possiamo Tranquillamente Allora Sarebbe Sarebbe il caso Di non sostituirli Quindi sarebbe il caso Di fare così Semplicemente Di fare tanti tier 1 E poi sostituirli Quando vuoi Tipo così Però come potete vedere Li ho finiti Perché li ho usati tutti Per fare la sua premium La master infusion Però No dai Devo farvi vedere Un campo che cresce da solo Aspettate Ci siamo Ci siamo Ci siamo Oh my god Ragazzi Immaginate che adesso Questa qui è robetta Questa è proprio robettina Piccola 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 Ma presto Oh mio dio Li sta già Ma questo l'ho bloccato Guardate qui 4 stacchi in 3 secondi Questo qui Ne possiamo mettere Quando ci avremo più energia Potremmo metterne 2 3 Che li prendono Quindi sarà istantaneo Questi ricresceranno Istantaneamente Questo crafterà Il supremium In una maniera incredibile Super Fighissima Bam bam Mi servono dei semi Incredibile Ragazzi Sta cosa è fantastica Poi farò un piccolo campo Gemello di questo Dove metteremo soltanto il grano Per produrre i semi Che ci servono D'accordo Intanto continuiamo A buttare dentro sta roba Perché Ah 50 qua Ce n'ho 52 Vai 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 Paulino Vuoi Eccola qua Eccola qui Eccola qui Oddio alla quarta puntata Alla terza puntata Faccio il supremium C'ho il supremium Regà C'ho il supremium Potremmo fare l'armatura Cioè se ci avessimo del tempo Che non ho Perché vi ricordo Che sto registrando Di mattaina Potremmo fare tranquillamente L'armatura di supremium Che è invincibile Indistruttibile Fantasticissima Bimbi 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 D'accordo Cioè Rendetevi conto Io mi sto moderando Mi devo fermare Devo proprio prendere La mia mano sinistra Tipo Don Fapp No E fermarmi E dire No non puoi farlo Marcus Cron Non puoi andare così avanti Non puoi Perché stennò Ti diranno Comunque Che nel bonsai pot Puoi mettere l'albero Per fare la legna Oh mio dio Ma guarda La robetta Bellissima Che ci abbiamo qui Questo devo Dobbiamo velocizzarlo Per forza Incredibles Incredibles Ci siamo? Stiamo finendo Il campo di grano? Ovviamente Come potete vedere Il mio time block Sembrerebbe Non influenzare Questa zona Come mai? Non lo so Io comunque Ce la metto Ok Adesso si Non so perché Questa no Quindi forse Ha un raggio Di tre I donno I donno Signori I donno Mamma mia Che bombazza Che bombazza Quindi posso Riattivare questo Perfetto Ragazzi Farm Farm di Supremium Farm Farm Incredibile Di Supremium Qui non serve Qui ci potrei mettere Il grass E mi faccio la farm Sì Mi faccio la farm Il grass I seed E mi faccio la farm Fantastico Fantasticissimo Non è Che vi devo dire Che vi devo dire Oh mio dio Bellissimo E se andassimo a bottigliare Questa E questo Succede questo Però c'è poca energia Ah Miei cari Amici Abbiamo Un bel pezzo Non potenziato Con il grano Che ci darà Semi E grano Ovviamente con il volo di upgrade In maniera che il server Non muoia E poi signori Abbiamo 32 Supremium Essence Alla terza puntata Wow 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 Un altro piccolo consiglio Che volevo darvi Per quanto riguarda Il boosting Di Di queste cose Potete sostituire La dirt Con il La fertilized dirt Della Non dell'open block Ma della random think Questa qui Davvero davvero buona Abbiamo fatto una prova In creative Super 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 buona Qui non sto aspettando Delle cose Probabilmente Dei meloni Che non compariranno mai Perché non c'è la dirt Beh ragazzotti Che dire Uno spettacolo incredibile Io vi prendo Queste essence Ok E direi che Ci siamo meritati Di sollazzarci un pochino Lo so che ho fatto Quella roba là Io voglio finire La puntata Facendo la gallina Del Coal Ok Dove come sta Eccola qua Che è flint Più log Io non so Io non so se ho la flint Sinceramente Mia cara Gallina flintosa Non ce l'ho sicura Che proprio per niente Andiamo a vedere un pochino Di prendere un pochino Di gravels 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 Intanto queste cosine Ve le prendo C'ho 4 di gravels Ragazzi è buonissimo È come se Avessi 4 di gravels Davvero Sul serio Non c'ho Non ho Non ho la gravels Pronto Vabbè Allora c'ho il flint Flintone Vai così Uno Questa è una storia Strappa storia Ma dai ma non è possibile Che non c'è il flint Aspetta ma ci sto riflettendo adesso Non me lo dava sto robbo Non mi dava sto robbo Il flint Regà Divento pazzo Non c'è il flint Vabbè ma come faccio Ma eccolo Ma che strange Va bene D'accordo Allora facciamo la gallina del flint Oppela Vieni da papà tuo Dovrebbe essere così no Perfetto Flint gallina È lei È lei È lei Poi la prendiamo con questo Perfetto Non mi interessa portarla al 10-10 Ovviamente Qui che stiamo facendo Stiamo facendo l'amore Oh Gang de nove Già Buono 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 Andiamo a rivedere Come si faceva dal ciccia ciccia Con quella del log Quindi andiamo a prendere Una log 10-10 Va bene E mettiamola Nello giusto Nello giusto ordine Ma come parlo Che so Ok Vai ciccia Facci sognare Oh Che meraviglia Che meraviglia Dov'è la mia La mia boccetta Eccola qui Boccetta di tutto Bim 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 Vediamo un po' Sì Sì Siamo in dolce attesa Non buttare questa Che cacchia Che cacchia Che cacchia Che cacchia Sì vediamo Oh Che culo No È la flinta ragazzi No Sono molto sad No Sono molto sad Di nuovo Sbrigati or dunque Dacci la nostra Sta strunza Maledetta Vabbè Mentre aspettiamo Se non me la dai Guarda Mi arrabbio molto Signore Io direi Che è giunto il momento È giunto il momento Eh Fornace base Eccola qua Bene Poi blocco Ah giusto 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 Dobbiamo fare vari passaggi Quindi Tanto di questo Lo divido Tanto di questo Lo divido Tanto di questo Lo divido Tanto di questo Me lo butto tutto dentro Ok Ah Tutto inside The saccotch Molto bene E andiamo A Ecco qua Andiamo a fare il blocco Di questo E il blocco Di quest'altro Il blocco Di Superior Intermedium Scusate Il blocco Di Supremium Non vi ricordo Superior E poi Supremium Che sembra tipo Una cosa Della ditta Signori ce l'abbiamo Ce l'abbiamo tutto Ce l'abbiamo tutto Possiamo farlo Fornace Di Inferium Bam Fornace Di Prudent No così Prudentium Bam Fornace Di Intermedium Bam Fornace Di Supremium Bam E guardate pure I cosi Fornace Di Supremium Terza puntata Non ho le nether star Quindi non posso fare La ultimate Fornace Però ragazzi Terza puntata Che vedo di Terza Fucking Puntata Ora Mi scrivono Ora Vediamo come va Vediamo come va Non lo so come va eh Non so come funziona Non l'ho mai fatta Cioè non è vero L'ho fatta qualche volta Però Call Beh Non è male Non è Non sembra male Non è super veloce Però non sembra male Always attivo Ma ce lo stai mettendo O non ce lo stai mettendo Pronto Dai Non mi dire che prendi da sotto What the fuck Ovviamente però posso Velocizzarla Sì Posso Posso velocizzarla E anche E anche non di poco OMG 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 Oh Ok d'accordo D'accordissimo Guardate che roba Regà Penso a quell'altra Che è Che bomba Che è Va bene D'accordissimo Andiamo a vedere Se abbiamo la gallina Del collo Vediamo un po' Se siamo fortunati No aspetta Mi prendi poco culo Tu mi stai prendendo poco culo Coll chicken Sì Log più flint Ma 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 E dov'è l'amore Ragazzi Dov'è l'amore Al 20% Ah Molto raro È molto raro Dobbiamo speddare Sperare nell'amore Ragazzi Speriamo nell'amore Tra le nostre galline Gallinatevi Or dunque Ammazza Quanto siete E dai Fate l'amore con il sapore Scusami No Tadam Signori ce l'abbiamo Non so Non so Mi sono ritrovato 13 flint chicken Per terra Non so perché Non chiedetevi perché E adesso abbiamo Due col chicken Quindi le possiamo Far fare l'amore Con il sapore Allora qui dentro Vabbè le flinte Le appoggio ragazzi Non so che cacchio Me potrebbero servire Vediamo un po' Se c'è qualcosa Importante L'iron Oh mio dio Si può fare l'iron D'accordo Non è questo il momento Marcus Cron Non è questo il momento Le porto 10 10 Ci siamo Ci siamo ragazzi Ci siamo Ho finito tra l'altro Tutto il tempo A mia disposizione Dentro la bottiglietta Minchia 15 16 Ragazzotti Adesso vi faccio vedere Che con una gallina Io posso rendere infinito Una fornace Allora Facciamo un conto No Questa fornace Va alla grande Mi sta smeltando Tutta sta roba La roba è infinita Quindi non serve Duplicarla D'accordo Poi appena C'abbiamo un'altra Netherstar Faccio La fornace L'ultima Ma se io metto La gallina qui Togliamo Sta robaccia Togliamo Sta robaccia E Mettiamo Un Cavetto Quaciotto Purtroppo Sto ciccio Si attacca dappertutto Quindi glielo devi Ogni volta dire Insert Mentre di qua Estrai Quando Cioè Durante il server Qui continuerà a macerare Ok Continuerà a fare roba Continuerà a portare Roba di qua Vedete Questa roba Continuerà a andare qui La gallina Continuerà a fare coal Il coal Finirà qui dentro Dai Non mi dire Che non Prendi No No ragazzi Non prendi Cosa mi stai dicendo Questa è una notizia Bruttissima Questa è una notizia Ok Non l'avevo attivato Scusatemi Perdonatemi Le galline Dicevo Le galline Queste qui Meravigliose 16-16 Daranno il carburante A questa Meravigliosa fornace E ragazzi Non ci dobbiamo preoccupare Di niente Di energia Di cose Di cose Di casa Zero E ce la fa E ce la fa La gallina Ce la fa Fa abbastanza colla Incredibile Posso No Solo Solo un pochino Cioè Guardate Che bomba atomica Signori Io chiudo qui la montata Tre ore Di puntata registrata Spero che Esca alle 13 Come da programma Abbiamo Il campo di grano atomico Ok Ci facciamo pure un bello screen Eh Bam Abbiamo La fornace Mega galattica Con le galline Meravigliose Signori Io vi aspetto Numerosi Sotto i commenti Per qualche dritta Per qualche considerazione Soprattutto qualche Mi piace E ci vediamo stasera Alle 21 Su Twitch Con GTA Online Ragazzi Statevi buoni Ci vediamo presto Domani c'è la manufaccio Ciao Ciao Ciao